Si è conclusa la quindicesima edizione di Pordenone Pensa, rassegna che porta a Pordenone nomi di spicco del panorama culturale italiano. Ad aprire la Kermess, il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che ha parlato del ricchissimo patrimonio culturale dell'Italia. È stata poi la volta dei due esperti di politica estera, Giulio Terzi di Sant'Agata e Gianni Vernetti, che si sono soffermati sul conflitto in Ucraina. In un capitol gremito, Gianluigi Inuzzi ha incantato il pubblico raccontando la drammatica storia di Manuele Orlandi, mentre la psicoterapeuta e psicopedagogista Maria Rita Parsi ha esposto gli enormi pericoli che i bambini e i ragazzi corrono in un mondo sempre più virtuale, dominato da troppa violenza. La serata conclusiva è stata affidata a Chico Testa e ad Alberto Mingardi, che si sono intrattenuti sulle sfide economiche di questo presente imprevedibile. Al netto del meteo, anche questa quindicesima edizione di Pordenone Pensa di sicuro non ha tradito le aspettative del foltissimo pubblico che l'ha seguita, sempre puntamente molto interessanti, incandidati sul confronto e sul dibattito tra idee. Quindi un'iniziativa estremamente intelligente, bella, che ormai rientra nell'alveo delle tante iniziative che caratterizzano Pordenone. Talmente tante che Pordenone è una capitale della cultura indipendentemente dai riconoscimenti formali. Chiusa la primavera si apre sulla stagione estiva che coagulerà tantissime associazioni locali, tra l'altro prestigiose, che metteranno in scena un cartellone ricchissimo di opportunità, tanto per i pordonesi ma anche per coloro i quali vogliono venire a visitare una città piccola ma caratterizzata da un'effervescenza, da una vitalità culturale che molti ci invidiano. Direi che il bilancio è sicuramente soddisfacente, sono stati degli incontri di buon profilo, sono stati seguiti, il pubblico ha apprezzato la qualità dei relatori e diciamo che siamo soddisfatti. Unico piccolo neo, chiaramente il tempo ha giocato un po' al nostro sfavore creandoci qualche problema, però in qualche maniera siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo ciclo di conferenze e direi che il bilancio è assolutamente positivo.